Che cosa ha la spinta a intraprendere uno studio sul Coaxial Traction System? Dunque, il sistema di trazione nel campo dei veicoli a due ruote è molto importante. Molto importante è il sistema che attua la trasmissione della potenza dal motore alla ruota. Nel passato sono state proposte varie soluzioni innovative per migliorare questo sistema, ma queste soluzioni, ad esempio Bilever, Traclever o ATK, sono soluzioni che non hanno avuto diffusione in quanto troppo complesse da un punto di vista costruttivo. La soluzione proposta da Uxwarna è abbastanza semplice e quindi è facilmente utilizzabile e implementabile su una motocicletta. E quindi, essendo una novità, è logico che il gruppo di ricerca che si occupa di dinamica del motociclo è interessato ad analizzarne il comportamento dinamico. Ci può spiegare com'è composto tecnicamente l'insieme del Coaxial Traction System? Il Coaxial Traction System consiste nel posizionamento del pignone della trasmissione secondaria in posizione concentrica rispetto al perno del forcellone. Da un punto di vista costruttivo, Uxwarna ha sostituito l'unico perno passante all'interno del forcellone con due semiperni laterali. Dal punto di vista scientifico, invece, puoi illustrarci quali vantaggi dinamici siano percepibili nelle simulazioni? Un importante vantaggio che fornisce questo sistema è la possibilità di adottare un forcellone più lungo con la conseguente riduzione dello scorrimento longitudinale della ruota posteriore. Scorrimento longitudinale che viene indotto dal movimento della sospensione posteriore. Un secondo fondamentale vantaggio consiste nel fatto che con la soluzione CTS Uxwarna la catena risulta sempre in tensione. In sostanza, il ramo scarico della catena è molto meno lasco rispetto alla soluzione tradizionale. In quali fasi della guida sono maggiormente percepibili dei vantaggi? Il sistema CTS fornisce dei vantaggi nella fase di accelerazione in quanto la forza di trazione conseguente all'apertura del gas cresce molto più prontamente perché non devono essere recuperati i giochi di una catena lasca. Questo aspetto, che è senz'altro positivo, si riscontra anche ad ogni cambio marcia nel momento in cui la frizione viene rilasciata. In questo momento la ruota riprende ad accelerare più prontamente dando alla moto una progressione più decisa. Nella fase di accelerazione, inoltre, la forza di trazione risulta più regolare e più progressiva e pertanto i picchi dello scorrimento longitudinale dello pneumatico vengono ridotti. Ne consegue che la moto risulta più stabile e governabile. Da un punto di vista progettuale, che approccio è stato scelto? Dunque, il CTS è stato progettato in modo da accopiarlo in maniera ottimale alle caratteristiche geometriche e fisiche della motocicletta. Cioè, in termini più tecnici, l'angolo del tiro catena deve avere una evoluzione correlata all'angolo del trasferimento di carico in funzione degli schiacciamenti delle sospensioni. Questi vantaggi sono riscontrabili sia nell'utilizzo cross che nell'enduro? Senza dubbio, tutte le qualità elencate sono di fondamentale importanza in entrambe le discipline. Infatti, sia nel cross che nell'enduro, le sospensioni vengono molto sollecitate e subiscono grandi escursioni. È proprio in queste condizioni operative che la maggiore correlazione tra l'angolo del tiro catena e l'angolo del trasferimento di carico risulta particolarmente positiva, significativa. Ad esempio, nell'utilizzo enduristico, quando è necessario dosare il gas per superare una serie di ostacoli che richiedono frequenti aperture e chiusure del gas, è evidente che un sistema di trazione come il CTS dà luogo sensibili vantaggi nella gestione della potenza del motore perché mantiene la catena sempre in tensione. Questo si traduce anche in un miglioramento della maneggiovolezza e delle prestazioni. Le simulazioni numeriche hanno mostrato che nell'utilizzo crossistico, ad esempio dopo un salto seguito da una serie di whoops, lo squat ratio subisce una fluttuazione minore e quindi un funzionamento migliore. Devo precisare cos'è lo squat ratio. Lo squat ratio non è altro che il rapporto tra l'angolo del trasferimento di carico e l'angolo del tiro catena. Come si integra l'adozione del leveraggio posteriore con la soluzione CTS? Per il corretto funzionamento il motociclo necessita di un sistema di trasmissione della potenza a terra efficiente ma anche di una sospensione altrettanto efficiente che garantisca il contatto a terra su percorsi molto irregolari. La sospensione posteriore ovviamente deve avere la giusta progressività in modo da garantire il massimo contatto a terra sia in presenza di lievi irregolarità e sia in presenza di notevoli irregolarità, ad esempio dopo dei salti. Lo schema di cinematico adottato della sospensione è basato su un sistema articolato e da luogo consente di avere la giusta progressività e inoltre aumenta anche la luce da terra. Professore, tutti i vantaggi finché elencati possono essere apprezzati anche dai piloti non professionisti? Sì, è evidente che quando si ha un'erogazione del motore, una trasmissione della potenza a terra più regolare, più progressiva i vantaggi vengono percepiti sia dal pilota professionista che dall'amatore meno esperto. Trova corretto che le case motociclistiche investano nella ricerca di nuove soluzioni per il miglioramento del comportamento dinamico del veicolo così come è stato fatto con il CTS? Sì, lo trovo oltre che corretto anche doveroso perché tutte le case motociclistiche dovrebbero effettuare ricerche in modo da migliorare le caratteristiche del veicolo, in modo da innovare i loro prodotti anche perché il mercato diventa sempre più competitivo e richiede anche delle novità tecniche in modo da rendere i veicoli più sicuri in generale, più maneggevoli e anche più prestanti. Come nasce DynaMotion? Dunque, devo partire un po' da lontano. Presso l'Università di Padova, già dal 1990, abbiamo creato un gruppo di ricerca che ho denominato Motorcycle Dynamic Research Group che si occupa di ricerca nel campo della dinamica del motociclo. In particolare, l'anno scorso abbiamo pensato di creare una società, una spin-off che abbiamo denominato DynaMotion, in modo da offrire servizi alle compagnie esterne nel campo della simulazione dinamica e nel campo della sperimentazione con particolare riferimento ai veicoli a due ruote. In particolare, abbiamo messo a punto un programma di calcolo multibody denominato Fast Bike, che esegue l'analisi cinematica e dinamica in generale la simulazione del comportamento dinamico di una motocicletta. Inoltre, abbiamo realizzato un simulatore di guida di tipo motociclistico che può essere utilizzato in futuro sia per l'addestramento che per fare una prototipazione virtuale, ad esempio provare nuove motociclette o nuovi sistemi di ausilio alla guida in ambiente sicuro e che con questa società intendiamo sviluppare e commercializzarlo.